Prego, Onorevole Federica. L'Onorevole Banconi la ringrazio di intervento, ma portava avanti una giusta protesta e ringrazio non soltanto il Ministro che se ne va, ringrazio anche i servili colleghi della maggioranza che applaudivano quando mettono la fiducia. Ormai è la dimostrazione plastica a questo Parlamento dei servi della Gleba per essere ricandidati. Onorevole Federica, per favore. Vergognatevi! Onorevole Federica. Dico soltanto, Presidente, che mi auguro che le istituzioni democratiche, se sono ancora tali di questo Paese, che devono garantire anche le opposizioni, e parlo dei Presidenti di Camera e Senato, su cui purtroppo ho perso le speranze, e del Presidente della Repubblica che intervengano, perché è inaccettabile che su una materia del genere, oltretutto di iniziativa parlamentare, arrivi il Ministro Boschi a porre la questione di fiducia, se ne vada e faccia finta di nulla. I colleghi di maggioranza applaudono. Qui è a rischio la democrazia parlamentare, che finché non cambierete la Costituzione, che penso i cittadini vi impediranno di fare, esiste ancora. Mi dispiace per voi, ma esiste ancora. Noi ci batteremo e faremo emergere, di fronte all'opinione pubblica, cosa è diventata quest'Aula, cosa sono diventati quattro lacche di Renzi. No, Onorevole Federica, non le consento però, eh.